Buongiorno cazzoni Guardate chi è il passeggero Ho anche un hobby dietro Ciao Luca Sono Matteo di The Stage Sono le 9.20 e siamo quasi arrivati all'Amazon Cominceremo a registrare Facciamo le ritmiche dei primi 5 pezzi del disco Mi raccomando se venite in Italia Comprate questo Sono veramente buon Sono buoni almeno Ciao ragazzi Ok fammi solo un attimo il palm muting Una via di mezzo fra i due Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Fai vedere che belle gambine c'ha io Questa è Che schifo Merdaccione Come lo traducemo merdaccione Big shitter Esercizio numero 1 Con lo singolo e il doppio alternativo Notare la pulizia dell'esecuzione La perfettezza della dinamica E la perfettezza della dinamica Ma non della sintassi purtroppo Mi spiace che non parli bene di italiano Guardate le camera Per dire sta troiata Adesso Matteo ci farà un riff al full microtone Quelle sequenze infernali Se lo vedete sbagliare? Ogni tanto Fanno un po' i cattivi E allora io Chiaramente sono giochi difficili da fare Ma alla gente gli piacciono Soprattutto questo gioco Che ho chiamato Rock Insorto Bestiale lawyers Fà T Fà 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 faut Fà Noi se ne frega rimandiamo la calma E ma spingilo indietro cazzo Studio nuovo di Ettore Il cantante nuovo di Ettore Che cazzo fa io?